buongiorno a tutti benvenuti a questa demo di archicad 21 sono l'architetto gerardo maguolo e qui con me c'è il mio collega architetto marlon boschi buongiorno a tutti quest'oggi saremo lieti di mostrarvi l'archicad 21 cominciamo subito con un video quindi vi lascio questo video di introduzione che ha questa bella musica in sottofondo grazie a tutti grazie a tutti bene come dicevo prima quest'oggi il mio collega io saremo lieti di presentarvi il nuovo archicad 21 durante questa presentazione avremo modo non solo di vedere le novità di questa specifica versione ma anche di cogliere l'opportunità che non sono solo le novità a fare il prodotto ma anche tutta l'esperienza la tecnologia e i concetti che risiedono alla base del prodotto stesso la produttività infatti si ottiene solamente dal flusso di lavoro ottimale quindi oggi vedremo assieme alle novità anche le soluzioni che grafisoft ha introdotto sin dalle precedenti versioni come risposta alle richieste globali e quindi contenuti prodotto flusso di lavoro la nostra demo di oggi coprirà 4 aspetti che riguardano l'intero processo AEC in primo luogo vedremo la genesi dal concept al beam con l'utilizzo dell'integrazione algoritmica vi mostreremo come uno strumento beam come archicad oltre all'automazione della documentazione possiede una nutrita schiera di strumenti tra cui appunto anche lo strumento scala totalmente integrato e grazie ad essi è possibile migliorare l'intero flusso di lavoro in terzo luogo mostreremo come tramite l'open beam sia possibile la collaborazione multidisciplinari vedremo poi un corollario di funzioni utile a te a migliorare il prodotto stesso infine ma non meno importante parleremo di come sia possibile la visualizzazione interattiva del modello e dei data e dei metadati in esso integrati con bmix algoritmic design è sempre più frequente nelle architetture di tendenza in molti casi può contribuire a colmare il divario fondamentale tra il concept iniziale e il primo modello architettonico già un anno fa graphisoft ha sviluppato un sistema di add-on per connettere bidirezionalmente in tempo reale il mondo di rino grasshopper con gli elementi nativi di archicad archicad 21 raccoglie e migliora questo tipo di esperienza adesso vedremo un esempio commentato di che cosa sia possibile realizzare con questa connessione e soprattutto come sia possibile ottimizzare le soluzioni prima di procedere allo sviluppo successivo questa che vedete è la tipica schermata dove a sinistra viene visualizzato grasshopper mentre a destra si nota la finestra 3d di archicad vediamo un esempio dove tramite l'algoritmo di grasshopper possiamo collegare le zone con i relativi settaggi quindi ecco che prendendo il cursore posizionandolo sull'output vediamo visualizzare nella finestra di 3d direttamente i settaggi impostati dal grasshopper quindi i colori che vediamo comparire nel modello 3d mediante il link sono quelli assegnati alle zone quindi ogni zona è contraddistinta da un proprio colore se andiamo a cliccare l'abaco delle zone in archicad ecco che i colori rappresentano le varie zone funzionali i parcheggi, gli uffici, le residenze e così via e quindi in fase di pre-pregettazione che cosa è possibile fare? è possibile andare a avviare a variare la percentuale delle distribuzioni delle zone d'uso per esempio in questo caso possiamo aumentare le residenze di lusso mettiamo 5 invece che 0 appena impostiamo questa modifica all'interno dei box dei parametri degli algoritmi di grasshopper il live connection ci fa restituire questo cambiamento anche all'interno dell'abaco di archicad e chiaramente è possibile andare a visualizzare nel 3d la variazione ottenuta vedete comparsa quella parte in azzurro che prima non c'era e quindi mediante un semplice clic è possibile cambiare il layout funzionale e aggiornare l'edificio quindi il nostro BIM di conseguenza cambia anche nel modello 3d e nei contenuti adesso per esempio andiamo a collegare e cambiamo questi valori da true a false e viceversa riferiti alle zone meglio agli elementi e andiamo a prendere i solai che fanno da contorno alle curve in maniera tale che facendo questo modifico sul valore set boolean la sincronizzazione sarà sempre costante con gli elementi statici usiamo i preferiti e andiamo a cercare i preferiti anche qui vedete c'è una funzione di ricerca questo appunto permette questa sincronizzazione con i solai andiamo a collegare con i relativi slum contour e quindi quello che prima era stato impostato come una zona adesso viene riconosciuto come elemento e lo ritroviamo in Archicad come se fosse costituito esattamente da un solaio sono state accese anche le strutture dei pilastri quindi voi vedete che è una costruzione a tutti gli effetti comprensiva di tutte le parti strutturali che creano l'involucro dell'edificio stesso in questa maniera è possibile ottenere diverse configurazioni dell'edificio quindi mostrare per esempio diverse soluzioni o anche far mostrare al cliente delle differenze per quanto riguarda la disposizione formale mantenendo sempre inalterato il principio quindi non va riscritto l'algoritmo ma basta semplicemente in Archicad ridefinire una nuova forma questa sarà linkata e tramite live connection immediatamente si avrà la corrispondenza dell'elemento quindi ciò non comporta la riscrittura tutto quello che vedete in questa parte sono elementi costruiti direttamente in Archicad o aggiunti come il landscape gli alberi che sono assolutamente degli oggetti parametrici eccetera quindi non c'è bisogno di altro vedete all'interno sono stati posizionati con il comando muovi e moltiplica anche gli arredi nella parte relativa agli uffici per cui non c'è bisogno di avere altri tipi di congiunzioni vediamo anche una sezione Archicad 21 introduce un nuovo strumento scala e un nuovissimo strumento parapetto associato tutti avrete presente il manuale dell'architetto o il manuale di progettazione della Neufeld ebbene gran parte di quel manuale si riferiva alla progettazione delle scale con le normative e le regole per la costruzione queste regole e questi standard sono stati integrati nei potenti algoritmi di calcolo del nuovo Archicad 21 che grazie a una progettazione predittiva tuttora in fase di brevetto da parte di Graphisoft permette un sistema di scale intelligenti basate appunto sulle regole e una grande libertà di design e quindi andiamo a vedere questo strumento più nel dettaglio all'interno di Archicad 21 la schermata 3D questa è l'icona del nuovo strumento scale come potete vedere nella barra superiore compaiono dei metodi di tracciamento la prima cosa che andiamo a vedere è una cosa molto semplice cioè ovvero le scale collegate ai piani quindi è sufficiente fare un click in questo piano vedete compare direttamente la scala a salire è sufficiente fare un click sul piano superiore e la scala viene direttamente determinata al livello corretto senza l'ausilio di introdurre alzate pedate eccetera questo perché per quello che abbiamo detto prima ovvero il fatto che Archicad dispone di alcune regole prefissate per le scale le vediamo subito sono queste regole e standard per cui alzata minima pedata eccetera chiaramente voi togliendo il flag da questi elementi avete la massima libertà progettuale se invece li lasciate si possono succedere cose interessanti come quelle che vedremo adesso un'altra cosa che vi faccio vedere è la possibilità di creare la scala rovescio che cosa vuol dire alle volte sappiamo qual è il dislivello cioè sappiamo dove dobbiamo partire sappiamo dove dobbiamo arrivare ma abbiamo un dislivello in questo caso è sufficiente invece che creare la scala a salire prenderla a scendere quindi cliccare su un solaio e andare a fare un click sulla parte inferiore anche la scala viene collegata al piano proviamo a vedere che cosa succede se io ad esempio vario l'altezza di interpiano quindi andiamo nei settaggi di piano variamo questo primo livello invece che 3 metri quindi qui è spesso in valore 3000 andiamo a mettere 3200 quindi 3 metri e 20 guardate che cosa accade l'archicad ci dà un avviso ci dice come conseguenza dell'ultima operazione alcune scale non saranno più valide confermiamo con il pulsante ok e come potete vedere sia il solaio si è alzato di quei 20 centimetri avete questa linea di riferimento sia l'archicad automaticamente è riuscito ad aggiungere un gradino e a cambiarne la scala per sbarcare sempre a quel livello desiderato questo perché perché questa variazione rientrava nelle regole delle scale impostate quindi lui ha ridistribuito non è che mi ha fatto l'ultimo gradino alto 20 perché la differenza era 20 ma ha ridistribuito la differenza giocando su tutti quanti gli elementi questo perché perché questa variazione non era così significativa lo poteva fare vediamo se facciamo qualcosa di un po' più corposo rispetto a questo solaio cioè proviamo a fare questa cosa andiamo per esempio a introdurre un valore di 4 metri su questo differenza di dislivello tra i piani anche in questo caso il programma rielabora lo spostamento e ci dovrebbe dare un risultato quindi un avviso eccolo qui confermiamo con ok in questo caso la scala non si è modificata ma è stata colorata dal programma di questo colore fucsia allora a me basta selezionarla in questo caso compare questo dialogo di editazione all'interno dell'editazione io vado a vedere l'impostazione della scala e ecco che mi trovo qui la differenza basterà mettere a zero questo valore quando scompare il dialogo Archicad linkerà la scala al piano desiderato e qui devo solo ricordarmi di uscire dalla modalità editazione della scala stessa possiamo proseguire con il prossimo argomento che riguarda sempre l'inserimento in questo caso bidimensionale e quindi andiamo a vedere questo concetto il concetto dell'allungare mi reco sempre nel menu scala questa volta vado a utilizzare le funzioni dei preferiti e andiamo a prendere una scala di tipo poligonale andiamo a fare il tracciamento per clic successivi un clic dicevamo mi appoggio sull'angolo qui potrei con questa pet palette andare a scegliere se continuare con la rampa oppure fare il ripiano che è definito come il piano erottolo in questo caso non serve nemmeno andare a specificare la scelta ma basta fare dei clic successivi ecco vedete in questo caso già vi faccio vedere che spostandomi lui capisce già la geometria e la costruzione progressiva della scala al clic successivo verrà fatto la svolta e posso andare a procedere con la scala stessa che cosa succede in questo esempio che magari lo spazio necessario per arrivare allo sbarco del livello al piano superiore doppio clic per terminare non mi risulti efficace per quanto riguarda questa soluzione allora che cosa posso fare semplicemente posso andare a cliccare la scala e premendo questo nodo posso andare tramite questa icona vedete a ridefinire e a ribilanciare la dimensione della scala finché finché trovo una dimensione perfettamente simmetrica tra l'inizio e la fine quindi una scala che al piano superiore avrà un ballatoio allineato e questo è il primo esempio che volevo farvi vedere per mostrare l'editazione di questo potente strumento passiamo allo strumento successivo in questo caso la migliore soluzione che cosa intende cosa si intende per migliore soluzione lo vediamo subito anche in questo caso facciamo uso dei preferiti andiamo a fare un clic sulla parte iniziale della scala e in questo caso userò la pet palette per definire un ripiano cioè un pianerottolo su questa parte successivamente vado a cliccare nuovamente lo strumento rampa per andare a terminare la mia scala guardate che cosa succede io non ho ancora fatto il secondo il doppio clic del termine eppure già la scala automaticamente si sta livellando sia nella determinazione delle pedate e sia nell'allenamento stesso quindi facendo un doppio clic ecco in questo caso ho creato la migliore soluzione cioè l'inizio e la fine un pianerottolo e una equa distribuzione dei gradini possiamo passare ancora a un altro tipo di soluzione ovvero quella nel definire il minore ingombro tutto ciò ha lo scopo di illustrarvi come nel 2D è impossibile inserire delle scale molto semplicemente questo perché lo andiamo a vedere con questo strumento perché sempre queste regole vanno a determinare tutti i meccanismi di funzionamento delle scale l'abbiamo già detto se voi togliete i checkbox avete molta più libertà di editazione ma forse la scala che creerete non sarà soggettata a degli standard perciò passiamo alla soluzione di minor ingombro anche in questo caso andiamo a usare i preferiti e quindi prendiamo il minore ingombro possibile in questo caso andiamo a fare un clic iniziale non facciamo un'altra scelta andiamo a proseguire ecco che vedete anche qui che compare automaticamente la linea di mezzeria che indica il raccordo e già avendo impostato una scala di minore ingombro cominciano automaticamente in ventaglie vado a fare un clic successivo e qui cosa succede la scala diventa bianca il fatto che diventa bianca vuol dire attenzione questa scala può avere qualche problema ciò non toglie che l'archicad non impedisca il funzionamento della stessa ok ma io posso continuare nella mia esecuzione doppio clic quando faccio doppio clic ecco che compare questo risolutore anche questo è soggetto al brevetto ok per cui è un'innovazione dove mi dice non posso creare la scala con le impostazioni correnti cioè quelle che mi ha introdotto tuttavia ti posso suggerire questi metodi che potrebbero far sì che la scala proceda in questo caso se io vado a scegliere questo vedete questo secondo avendo impostato il minore ingombro è addirittura più piccola di quello che avevo scelto per cui facendo un clic su questa spunta quella sarà la scala effettivamente posizionata e andiamo a vedere l'ultimo metodo di tracciamento bidimensionale che voglio farvi vedere oggi ovvero il metodo della bacchetta magica voi sapete che la bacchetta magica è uno strumento molto potente in Archicad perché consente di replicare o seguire il contorno di un elemento per esempio un solaio con delle murature una polilinea o una linea con per esempio uno strumento mesh o uno strumento falda insomma tutto ciò che ha un contorno può essere replicato con un altro strumento in questo caso vediamo una scala attorno a un muro questo è un muro vedete lo seleziono per tracciare la scala è sufficiente andare a prendere ancora una volta lo strumento scala e fare clic con la barra spaziatrice per ottenere la bacchetta magica si ottiene con la barra spaziatrice qui vi faccio notare che se mi metto sulla parte rettilinea del muro l'unico tracciamento di una scala è un tracciamento di tipo lineare se invece io mi posiziono all'interno quindi della geometria con un click barra spaziatrice click la scala che ottengo è esattamente questa quindi vedete che ha proprio preso il contorno esatto del muro senza fare nessun tipo di fatica ora per esempio se io volessi andare a trovare un'altra soluzione per quanto riguarda questo sbarco mettendomi su questo punto e cliccando qui in questa pet palette compare questa icona del tutto nuovo questo vuol dire scegli un altro tipo di opzioni per la svolta quindi andare a definire o un offset di alzata fisso e andare per esempio a mettere un valore oppure posso dire guarda voglio per l'intera scala solo per il punto cliccato o nel caso di un ventaglio posso andare a scegliere le regole per le pedate uguali quindi il tipo di ventaglio può essere fatto con il centro esterno con il punto singolo con la svolta cliccata o sempre per l'intera scala quindi dando una continuità anche in questo caso posso decidere quale sia il numero minimo di ventagli possono anche essere non legati ok sempre tenendo presente che in certe condizioni o in certe situazioni ho dei limiti dettati dalla normativa quindi in questo caso torniamo in questo tipo di pianerottolo facciamo ok con il solutore selezioniamo questo tipo di scala e teniamo questo in scala con l'intera geometria selezionata ok abbiamo visto appunto il tracciamento con la bacchetta magica andiamo a vedere un'altra funzione molto utile quando si va a parlare di scala ovvero un tipo di visualizzazione parlo sempre per la scala che può essere dettagliato o schematico perché all'inizio magari voglio solo andare a capire qual è il problema cioè dove finirò con lo sbarco dove comincerò quale sarà la svolta come sarà il pianerottolo eccetera eccetera e quindi attraverso questo pulsante posso andare a scegliere di avere per esempio una situazione di questo tipo ecco in questo caso avete visto negli esempi andiamo a fare un'orbita abbiamo una parte che è la pedata una parte che è l'alzata e una parte che è la struttura io posso passare da questo tipo di visualizzazione a una visualizzazione di tipo schematico semplicemente andando a cliccare un pulsante passiamo oltre editazione sulla linea base o editazione sulla linea perimetrale attenzione perché posso avere due aspetti completamente diversi cerchiamo di fare un po' di chiarezza e di vedere come andare ad applicare questi metodi sono profondamente diversi ma anche semplici una volta che si capisca se io vado a cliccare questa scala la linea blu di contorno mi definisce la linea base è la linea che trovate anche nella barra superiore dove può essere destra sinistra o centrale analogamente questa scala hanno le linee base da tutti gli steri se vado se vado a fare un clic in questa parte della scala vedete che questo perimetro è completamente verde questo è blu questo è verde allora facendo lo stesso tipo di operazione con cliccando in punti diversi ottengo cose diverse per la linea base andando a editare la linea base per esempio andiamo a curvare questo lato ottengo la curva dell'intera scala se vado a farlo con la perimetrale guardate che cosa succede questo lato rimane diritto e vado solamente ad allargare i gradini analogamente se io prendo questo nodo e vado a tirarlo lungo questo muro vado a fare un allargamento della scala mentre qui usando sempre il perimetrale e facendo la stessa operazione vado a spostare questo quindi già qui capite che dove vado a cliccare posso ottenere cose del tutto differenti insistiamo su questo concetto perché si possono ottenere delle cose molto particolari allora sempre sul discorso legato alla perimetrale andiamo a selezionarla e è possibile andare a inserire anche dei nodi per esempio un nodo che parte in questo punto un nodo che parte in questo punto e andare a curvare questo lato vedete i comandi sono sempre quelli molto familiari quelli di archica in questo caso invece trattandosi di una linea di base vado a cliccare e vado a curvare il lato solo della linea di base vedete che tutta la scala la scala si curva automaticamente rispetto ai passaggi che ho fatto da questa parte perché la linea base è la linea generatrice su cui la scala si appoggia in questo caso un caso dove posso andare a fare un'editazione di tipo misto e quindi lungo la linea di base posso andare a fare un allargamento del tipo precedente ma poi non pago dei risultati vado ad editarmi la linea perimetrale e quindi vado a spostare i vertici ancora vado a ridefinire l'arco di circonferenza andiamo a vedere i risultati ottenuti anche per esempio nel 3D capite che questo strumento diventa proprio un compagno per andare a creare le scale non solo in fase di progettazione ma anche in fase di rilievo quando si trovano delle cose già costruite che hanno delle difficoltà geometriche passiamo all'argomento successivo vogliamo realizzare questa scala a red che sotto a questi contenitori allora qui sono stati già preparati degli elementi clicco il pulsante edita e vado in modalità editazione mi posiziono su questa quarta pedata vado a selezionarla in modalità editazione posso trascinarle quindi vado fino allo spigolo del muretto del muretto del muretto esterno ripeto l'operazione per la terza quindi un click e un altro click finale poi per la seconda click vado a estendere il lato arrivo in questa posizione e infine per la prima pedata adesso ripeto l'operazione per l'alzata quindi faccio un click vado a selezionare non questo nodo inferiore ma quello superiore e mi posiziono sull'allineamento desiderato un altro click ripeto l'operazione per la seconda alzata un altro click cerco l'allineamento poi per la terza un click superiore e vado sempre a prendere l'allineamento e infine per la quarta ancora un altro click a questo punto posso uscire dalla modalità editazione ma conviene rientrare nella stessa e spostarsi nell'ambiente di pianta ecco facciamo un piccolo zoom vado ad aggiungere un nodo su questa parte qui e vado a stirare questa porzione fino alla parete retrostante cioè il top del mio contenitore adesso esco dalla modalità editazione andiamo a vedere nel 3d e la scala è quasi conclusa che cosa ci rimane da fare eliminare questa porzione di muri allora seleziono questi due muretti vado nel menu design operazione con elementi solidi raccolgo gli elementi obiettivi seleziono i miei obiettivi due sono i due muretti e seleziono la scala che sarà il mio raccoglie elementi operatore mi operatore eseguo una sottrazione con estrusione superiore clic su esegui chiudiamo la palette e questo è il risultato ottenuto possiamo vederlo un attimo questa è la mia scala di design bene bene adesso proviamo a fare qualcosa di un pochino più interessante dal punto di vista grafico ovvero realizzare questa scala di design come vedete nessun elemento è specifico è tutta una scala disegnata allora partiamo da questa parte posizione seleziono entro in modalità editazione seleziono il primo gradino tasto destro quindi userò la selezione tasto destro per questo elemento e uso il comando converti selezione in forma confermo con ok ecco che il gradino mi sparisce dalla scala ma questo se vado a selezionarlo come potete vedere nella barra è un elemento di forma e quindi posso cominciare a modellarlo quindi estrudiamo questo lato diciamo di 500 estrudiamo verso il basso e andiamo a ecco fare la stessa operazione dal lato opposto quindi mi seleziono su questa faccia della forma ripeto il tubaggio ancora 500 da questa parte e poi nella direzione lungo il basso adesso posso prendere i due spigoli superiori e andare a fare un arrotondamento diciamo con valore 100 da questa parte e da quest'altra parte ok ho ottenuto il mio gradino ma questo è un elemento di forma ok che cosa posso fare in questa versione posso selezionarlo e andare a registrare questo elemento quindi all'interno della voce liberi e oggetti salva selezione come vedete che trovate le componenti per la scala in questo caso sarà la pedata di una scala quando confermiamo con ok ci viene richiesto un nome andiamo a salvarlo possiamo adesso fare questa operazione qui posso selezionare il mio prototipo e andarlo ad eliminare intanto l'ho già registrato un click bene adesso selezionando la mia scala se io vado nella modalità edita non è che quel gradino era proprio cancellato era semplicemente nascosto quindi mi basta riselezionarlo entrare nei settaggi e andare a cliccare la voce pedata e questo mi farà ricomparire il gradino ma che cosa avevo fatto precedentemente io l'avevo memorizzato come quello personalizzato quindi vado a richiamare la mia personalizzazione ripetiamo l'operazione qui abbiamo già le altre pedate memorizzate quindi vado a selezionare la seconda per esempio quindi un click solo sulla seconda sempre in modalità editazione diventa una pedata personale entro nei settaggi e vado a richiamare il secondo ripeto l'operazione anche per il terzo e così via per tutti gli elementi quindi dal quarto in poi la forma sarà cambiata perché andrò a collegarmi con il gradino superiore ma è semplicemente un'operazione di forma vedete ok procedo così per gli altri gradini nella stessa maniera analoga e andiamo a vedere la scala terminata eccola qua della stessa possiamo anche andare a visualizzare una pianta ecco in questo caso è presa dall'altra parte quindi da qui si sale questo è il pianerotto e qui si va a salire o ancora andare a vedere una sezione della stessa oppure una vista frontale visto che sarà un elemento di design su misura e prima di passare la parola al collega Marlon andiamo a una rapida occhiata anche allo strumento parapetto lo strumento parapetto replica lo schema per la scala quindi è diviso in componenti ed è uno strumento molto molto flessibile è associativo come vedremo adesso perché si lega all'elemento su cui andate a farlo quindi non è semplicemente uno strumento parapetto da associare alla scala ma potete realizzare anche delle recinzioni segue la pendenza della mesh per esempio oppure anche qualsiasi contorno come i solai e quindi diventa uno strumento che va che allarga proprio gli orizzonti diventa più potente di quello per cui è stato pensato cioè semplicemente un corrimano di una scala come potete vedere qui è possibile avere un corrimano top che è quello superiore poi il corrimano potete decidere le traverse le colonnine potete aggiungere degli elementi potete togliere degli elementi vedete questi elementi sono degli elementi intelligenti nel senso che se voi andate a selezionarli potete fare qualsiasi tipo di operazione anche per quanto riguarda i corrimani potete aggiungerli potete toglierli così per come riguarda i pannelli che possono essere anche elementi personalizzati ognuno di questi elementi comprese le balaustre può essere diviso in sotto elementi di preferiti ok quindi potete farmi una personalizzazione di ogni elemento compresi i piantoni ve li faccio vedere e quindi avete anche questi elementi già preconfigurati ma è possibile andare a prendere elementi personali è possibile andare a definire le connessioni questo perché perché il parapetto non termina dove termina la scala posso legarlo anche con il solaio quindi si vanno a risolvere anche quelle parti di continuità e ovviamente anche la possibilità di decidere nelle estremità vedete questo tipo di raccordo in orizzontale viene proprio inserito per creare una continuità ebbene dopo questa panoramica sugli elementi e vado andiamo a vedere questo parapetto già inserito e facciamo proprio il focus su quella che è l'associatività che cosa vuol dire vuol dire che una volta che avete posizionato il parapetto basta cliccare sull'elemento e modificarlo come per esempio in questa scala vado a fare una modifica qualsiasi per la scala e il parapetto seguirà la modifica proposta quindi se andate a fare un'operazione di questo tipo per esempio sulla scala vedete il parapetto ha seguito l'operazione oppure in questo caso andiamo a prendere il solaio superiore vado ad inserire un nodo nel solaio automaticamente il parapetto ha aggiunto un nodo se questo nodo vado a modificarlo ecco che si modifica anche il parapetto anche se voi fate delle operazioni più complesse come per esempio andare a curvare questo lato andiamo ancora a un paio di esempi per quanto riguarda il parapetto ecco qui vedete a spirale con un elemento che segue la forma e si raccorda perfettamente oppure anche questo esempio dove in questo caso abbiamo addirittura un fascione con tutto vedete il sistema degli aganci sulla parte principale come potete vedere lo strumento parapetto è uno strumento completo flessibile e potente e con questo posso passare la parola al mio collega Marlon salve a tutti allora con il mio collega Gerardo siamo arrivati al terzo punto del nostro flusso di lavoro ora è il momento in cui allarghiamo il cerchio e includiamo nel nostro flusso di lavoro anche altri settori ogni giorno gli architetti collaborano con diverse discipline e con una serie di software diversi Archicad è sempre stato al top nell'interoperabilità non sarebbe esagerato dire che Archicad è il software BIM che dialoga con il più grande numero di software ed è il più grande sostenitore dei flussi di lavoro basati sull'IFC però l'interoperabilità o la multidisciplinarità non è un'operazione unica ma è un flusso continuo di scambi dati adesso vedremo le ultime novità riguardo il flusso di lavoro Open BIM in Archicad 21 migliora ulteriormente il flusso Open BIM tramite il collegamento come modulo dei file IFC ora i file IFC possono essere collegati come modulo proprio come i moduli Archicad Standard ciò rende il procedimento molto più veloce in quanto non è necessario per un file IFC aprirlo e unirlo prima ad un progetto Archicad esterno per poi collegarlo come modulo adesso come vediamo su contenuto esterno possiamo posizionare un modulo come è già familiare selezionando però adesso anche i file IFC qua come vediamo sono già stati collegati tre moduli IFC uno è la struttura il modello map e il sito possiamo aggiungerne altri tramite il nuovo modulo e andando a pescare il file IFC come vediamo qua è già abilitato anche per i file IFC andiamo in una cartella che contiene file IFC e vediamo che qua sotto si è impostato il traduttore e si possono importare uno dei vantaggi nell'utilizzare l'IFC come modulo collegato è che tutti gli elementi importati possono essere selezionati con un solo clic poiché appartengono allo stesso modulo inoltre possiamo rapidamente cancellarli se non ci servono più oppure aggiornarli tramite il gestore dei moduli collegati se abbiamo ricevuto una nuova versione da un'origine esterna sul gestore dei moduli collegati selezionando il file IFC che vogliamo aggiornare clicchiamo sul pulsante aggiorna e di tutto il resto è gestito da Archicad un altro cambiamento importante qua possiamo vedere il file IFC aggiornato con molto più dettagli un altro cambiamento importante è che ora i traduttori IFC sono salvati con i file di progetto Archicad questo consente ai gestori BIM di memorizzare i traduttori standard dello studio all'interno del template il motivo principale dello scambio dei modelli IFC è identificare eventuali interferenze tra le varie discipline prima della costruzione fino ad ora il rilevamento delle coesioni è stato possibile solo nell'estensione aggiuntiva di MapModeler in Archicad e tramite software esterni come Solibri la buona notizia è che il rilevamento delle interferenze è diventato parte integrale di Archicad 21 quindi è possibile seguire il controllo delle collisioni all'interno del programma in cui sono disponibili anche gli strumenti per applicare immediatamente le modifiche necessarie al modello e seguiamo il controllo di collisioni iniziale tra due sistemi di costruzione nel nostro caso elementi architettonici di costruzione e elementi map notiamo come le interferenze riscontate sono 31 proviamo a ristringere il campo e a fare la stessa cosa in un punto che ci interessa di più tra gli elementi map e invece degli elementi di costruzione andiamo a scegliere le fondazioni vediamo che il numero è sceso a 16 tramite il strumento revisione possiamo controllare tutti i nostri conflitti scegliamo il conflitto 31 attivando il layer vediamo che il conflitto 31 è questo tra una trave e un tubo map possiamo fare una cattura della visualizzazione e esportarlo in bcf per inviarlo al nostro collaboratore che ci ha fornito il file afc dell'impianto per eventuali modifiche come avete notato prima abbiamo parlato di fondazioni naturalmente in archica non esiste un strumento per le fondazioni diversi strumenti hanno diverse geometriche e funzionalità quindi invece di limitare la vostra immaginazione vi incoraggiamo ad utilizzare lo strumento che si adatta al meglio all'intento di progettazione e poi utilizzare metadati per raggruppare gli elementi inoltre in un flusso di lavoro tipico multidisciplinare è necessario affrontare i dati BIM da diverse fonti e soddisfare le esigenze dei diversi soggetti interessati per seguire analisi calcoli di quantità e così via dobbiamo organizzare i filtri degli elementi del modello per varie categorie indipendentemente dall'origine di tali elementi questo si chiama classificazione elemento in alcuni casi potrebbe anche essere necessario applicare più sistemi di classificazione per soddisfare requisiti diversi ad esempio l'export in IFC nelle versioni precedenti di Archicad abbiamo sopportato solo 50 tipi di classificazioni ma questa è una lista fissa e limitata con Archicad 21 ora è libero di creare e lavorare con tutte le categorie di classificazioni come necessario e il nuovissimo classificatore gestisce una soluzione dedicata per questo compito vi mostriamo un esempio di come la classificazione aiuta gli architetti a gestire i propri progetti qua vediamo le nostre fondazioni che sono state create con pilastri travi e muri però noi vogliamo classificare tutto questo come fondazioni selezioniamo il tutto e andiamo su settaggi elemento edita selezione di gruppo e vediamo che sulle classificazioni abbiamo la possibilità di scegliere la classificazione per questo gruppo di elemento noi abbiamo messo fondazione vediamo gli elementi sono muri pilastri travi e forma i vantaggi nell'utilizzare la classificazione possono essere nel trovare dopo gli elementi con ricerca e selezione sulla collisioni oppure sugli abachi vediamo un abaco delle fondazioni come vediamo sul tipo abbiamo forma muro pilastro trave piano ospite e materiali però per fare questo abaco sulle impostazioni schema è abbastanza semplice perché abbiamo inserito solo il criterio che gli elementi devono essere classificati come fondazione oltre ai nuovi strumenti scala parapetto e ai grandi miglioramenti nell'interoperabilità Archicad 21 offre ulteriori novità per facilitare il nostro flusso di lavoro B adesso vediamo alcuni di loro moltiplicare lungo il percorso una nuova opzione nell'attuale strumento di moltiplicazione che aiuterà a distribuire gli elementi desiderati lungo un percorso selezionato selezioniamo questo elemento qua attivando il comando moltiplica andiamo a scegliere incrementa distribuisci ruota lungo il percorso facciamo ok prima si seleziona il percorso che vogliamo seguire e si fa l'offset desiderato possiamo scegliere il passo nel nostro caso ci va bene un passo da un metro seguiamo fino al punto dove si desidera facciamo un doppio clic e vediamo che abbiamo i nostri elementi distribuiti lungo il percorso desiderato ma non sono solo distribuiti ma anche seguono la curvatura con l'angolo di rotazione giusto andiamo a vedere un altro esempio qua vediamo un'altra opzione possiamo utilizzare questa nuova funzionalità per distribuire in modo casuale gli oggetti lungo un percorso nel nostro caso abbiamo questi alberi qua e vogliamo crearne un piccolo bosco in questa zona qua attiviamo il nostro comando moltiplica e scegliamo in questo caso disponi e la rotazione delle coppie come casuale prima si definisce il percorso mettiamo che vogliamo un bosco di queste dimensioni qua vediamo come in automatico si crea con due clic ed ecco abbiamo il nostro bosco un po' denso passiamo all'altro argomento il trasferimento di parametri selettivo allora il strumento trasferisce i parametri è uno dei strumenti più utilizzati dai nostri utenti adesso si è aggiunta una nuova funzionalità che è l'opzione di trasferire solo i parametri desiderati facciamo una prova mettiamo che vogliamo trasferire i parametri di questa porta su quest'altra senza cambiare l'id vogliamo che l'id rimanga uguale 0,63 in questo caso prendiamo il preleva parametri e preleviamo i parametri da questa porta qua adesso andiamo a iniettarli su quest'altra in automatico ci appare escludi l'id se clicchiamo qua ci appare varie regole già definite ma si possono anche modificare e aggiungere altre in base alle nostre necessità creiamo una nuova regola per escludere certe cose o certe proprietà da un trasferimento in questo caso noi vogliamo escludere l'id facciamo escludi l'id e vediamo che la porta è cambiato ha preso tutti i parametri dell'altra porta tranne l'id l'id è rimasto uguale andiamo su un'altra novità le linee tratteggiate la qualità della documentazione è sempre stata una priorità fondamentale per gli architetti quando si tratta di qualità nei disegni anche il più piccolo dettaglio diventa molto importante secondo le nuove norme di elaborazione e il nuovo algoritmo di Archicad abbiamo la possibilità di fare queste regolazioni vediamo qua come questa linea tratteggiata non finisce con l'angolo e rende un po' difficili le misurazioni adesso con il nuovo algoritmo le polilinee tratteggiate possono essere visualizzate più naturalmente grazie a questo senza angoli mancanti come vediamo in un solo click sull'impostazione l'algoritmo ricalcola e definisce gli angoli giusti andiamo a vedere l'altra novità le etichette automatiche in Archicad 21 si espandono ulteriormente le possibilità delle etichette automatiche invece di ordinare e formatare la finestra di dialogo ora possiamo facilmente creare le etichette nella finestra grafica possiamo aggiungere classificazioni dell'elemento e proprietà dentro l'etichetta vediamo come si fa clicchiamo sull'etichetta per editarla questo è l'id di questo elemento allora scriviamo id sotto vogliamo aggiungere la classificazione dato che stiamo parlando di classificazione andiamo a prendere questo è il pulsante nuovo che è stato aggiunto il testo automatico andiamo a scegliere la classificazione scegliamo la classificazione standard di archicad 21 facciamo aggiungi questo elemento è stato classificato come colonna aggiungiamo sotto anche l'altezza andiamo a prendere su generale l'altezza in questo caso è 3 metri e 20 finito di creare la nostra etichetta possiamo prelevarla i suoi parametri e utilizzarla per qualsiasi altro elemento come vediamo l'id è diverso in base all'elemento la classificazione questo ce l'ha come uno questo anche e l'altezza dei due elementi vediamo un'altra novità archicad 21 ci aiuta a velocizzare il flusso di lavoro della documentazione ad esempio quando si effettuano le regolazioni finali in una vista di una sezione o un'elevazione non è necessario tornare al piano di base per regolare la sezione per ristringerla o per allargarla possiamo farlo direttamente nella vista sezione con i nuovi bordi perimetrali quando ci avviciniamo al bordo in automatico si attiva il bordo perimetrale orizzontale in questo caso che possiamo trascinarlo o avanti indietro per definire il perimetro della nostra sezione un'altra novità sono i stili 3D i stili 3D sono una soluzione innovativa per controllare tutte le impostazioni di visualizzazione del modello B la nuova interfaccia di stili 3D ci consente di accedere a tutte le impostazioni di visualizzazione 3D dalla finestra di dialogo questa soluzione rende la gestione del progetto più facile inoltre i stili 3D offrono nuove opzioni di rappresentazione del modello estremamente utili nella fase di progettazione concettuale la nuova opzione modello monocromatico elimina la necessità di creare combinazioni di sovrascritture grafiche complesse per ottenere la visualizzazione del modello bianco ora è solo un semplice click nella finestra del dialogo del stile 3D è possibile utilizzare anche altri colori li scegliamo qua su contone superfici in questo esempio abbiamo definito alcune viste 3D con impostazioni di visualizzazione diverse alcuni schematici altri più dettagliati andiamo a vedere questa è una vista col modello bianco con le ombre la nostra seconda vista ha un stile di visualizzazione base vettoriale il vantaggio dei stili 3D è anche che posso modificare le impostazioni di più viste salvate attraverso le impostazioni di visualizzazione senza aprire una per una tutte le viste e modificarle semplicemente selezionando tutto impostazioni vista su stili 3D andiamo a scegliere il nostro bianco con ombria facciamo ok come si vede il stile 3D è cambiato sia per la vista corrente sia per le altre viste 3D questo per quando riguarda i stili 3D adesso passiamo nella nostra presentazione su Keynote adesso vedremo i miglioramenti al motore Cinerender Cinerender introduce i metodi di mappatura luce e illuminazione globale secondaria per rendere in più realistici ma comunque veloci le migliorie al canale riflettanza ci permettono di usare un numero illimitato di lucidi con i nuovi tipi di riflessione con il metodo del modello monocromatico i progettisti possono eseguire il rendering del proprio progetto usando un singolo colore di propria preferenza il nuovo shader di variazione sarà usato per variare il colore di superficie in modo casuale attraverso elementi diversi il nuovo shader parallasse influisce invece sul canale rilievo allo stesso modo del canale di spostamento ma con tempi di rendering molto ridotti adesso vedremo come utilizzare la funzione di visualizzazione monocromatica del modello integrata nel motore cine render in precedenza questa funzione è stata chiamata effetto modello bianco perché solo il bianco poteva essere utilizzato come colore ed aveva delle impostazioni limitate ora si chiama visualizzazione monocromatica del modello perché può essere selezionato ogni tipo di colore e ci sono ulteriori impostazioni avanzate per poterlo editare per impostazione predefinita il modello bianco è già selezionato utilizzando questa modalità si può visualizzare l'edificio utilizzando l'effetto modello bianco come prima scegliamo l'opzione scegli colore dalla lista ora siamo in grado di selezionare il colore desiderato dopo aver selezionato un colore personalizzato possiamo anche decidere su alcune caratteristiche delle superfici possiamo abilitare l'effetto delle fonti di luce artificiali per esempio o possiamo fare che tutte le superfici vetrati conservano la trasparenza questo è il risultato che si ottiene applicando questo effetto adesso vedremo il nuovo shader paralasse questo shader è usato dal motore cine render di archicad e può fornire dei risultati unici se realizziamo una superficie che ha già alcune texture ma il canale rilievo viene disattivato l'immagine risultante apparirà piatta e naturale come le immagini che stiamo guardando adesso sulla finestra del dialogo delle impostazioni superfici possiamo attivare il canale di rilievo e noteremo che sotto ci sono stati aggiunti i nuovi settaggi del shader paralasse se renderizziamo un'immagine con il canale di rilievo attivo ma con il shader paralasse a zero noteremo che le superfici hanno un aspetto più naturale qua vediamo il confronto sull'immagine a destra abbiamo attivato il canale rilievo come vediamo il canale rilievo fornisce un certo aspetto 3d per l'immagine questa immagine possiamo migliorarla ulteriormente usando il nuovo shader di paralasse in precedenza la nostra unica opzione per migliorare la qualità dell'immagine era attivando l'opzione di spostamento che aumentava considerevolmente i tempi di render adesso possiamo avere un risultato ancora più professionale rispetto a prima sia la tastiera che le superfici mattoni sembrano più naturali il shader paralasse assicura un aspetto 3d in un tempo molto molto breve l'altro grande vantaggio del shader paralasse è che non ce n'è nessuna necessità di creare un canale supplementare perché dispone come caratteristica aggiuntiva del canale rilievo ed è utilizzata anche la tessitura già selezionata per il canale rilievo adesso vedremo i vantaggi nell'utilizzare l'occlusione ambientale per migliorare la qualità di rendering e ridurre i tempi di renderizzazione visualizziamo le impostazioni di rendering dell'occlusione ambientale facendo un rendering con queste impostazioni attive notiamo che le superfici che si interseccano lungo la loro intersezione vengono visualizzati utilizzando una tonalità leggermente più scura qua vediamo un rendering senza l'occlusione ambientale qua vediamo un rendering con l'occlusione ambientale nera questo è l'effetto dell'occlusione ambientale e garantisce una profondità dell'immagine come notate il colore delle superfici non è stato modificato solo la rappresentazione dei contorni è stata migliorata questo è un effetto consigliato nelle viste modello monocromatiche come queste che stiamo vedendo adesso se impostiamo l'effetto di occlusione ambientale in corrispondenza al colore si ottiene un risultato più delicato l'effetto occlusione ambientale è disponibile anche sui settaggi delle superfici e può essere usato per creare un effetto consumato usato più naturale lungo il perimetro delle superfici Archicad 21 offre il supporto alla barra Touch Bar di Apple MacBook Pro la nuova barra come sappiamo è una striscia di vetro multitouch integrata nella tastiera per un accesso instantaneo ai strumenti essenziali ed è personalizzabile in base dall'applicazione che si apre Archicad fornisce accessi ai più comuni comandi Archicad in questa striscia abbiamo la commutazione tra pianta e finestra 3D l'accesso alle impostazioni strumento e selezione entrata e uscita dalla modalità di editazione per scale parapetti e corte in wall editazione struttura composta o profili complessi dell'elemento selezionato scorciatoi e GDL durante l'editazione dello script adesso faremo una piccola presentazione sul BMIX la nostra app per mobile e tablet disponibile sull'App Store e Google Play per quelli che non lo conoscono BMIX è un'applicazione di presentazione del progetto per architetti caratterizzata da una tecnologia unica per integrare la navigazione del progetto nell'edificio sia in 2D che in 3D come vediamo questa è una navigazione sul nostro modello BMIX come si vede la navigazione è molto fluida anche in un modello di dimensioni molto grandi possiamo scendere e navigare camminando per terra selezionando nel nostro caso questa porta corte in wall possiamo andare nelle sue proprietà e ci colleghiamo direttamente col sito del produttore che è stato elincato nelle proprietà dell'elemento qua stiamo navigando dentro l'edificio adesso possiamo passare in pianta e visualizzare tutta la documentazione in 2D possiamo zoomare e vedere gli elementi che vogliamo nel 2D possiamo visualizzare tutta la documentazione necessaria le sezioni possiamo passare dal 2D al 3D e vedere la sezione in 3D possiamo anche spostare il piano di sezione quello di visualizzazione oppure il piano di taglio della sezione e guardare un altro tipo di sezione qua abbiamo la lista di tutti i nostri elaborati allora adesso vedremo le ultime novità sul B-Mix il progetto inizia in Archicad dove è possibile impostare un set di pubblicazione e creare un modello B-Mix se lo creiamo solo per noi stessi e lo si desidera esplorare sul nostro dispositivo il modo più semplice è collegare il tablet al computer e trascinare il file è anche possibile utilizzare qualsiasi servizio di condivisione di file basati sul cloud esempio Dropbox Google Drive o iCloud carichiamo il file e condividiamo il link di download dall'iPad o il tablet facciamo clic sul collegamento e scarichiamo il file B-Mix riconoscerà automaticamente il file scaricato e lo posiziona nell'elenco dei modelli all'interno dell'applicazione il sistema basato sul cloud di Graphisoft e il servizio B-Mix Model Transfer consente una sicura ed effettiva condivisione dei vostri progetti se il disegno dovesse cambiare dovresti pubblicare e caricare un file intero fortunatamente Graphisoft ha creato il sito di trasferimento del modello B-Mix per affrontare questa situazione il flusso di lavoro del trasferimento è integrata sia in B-Mix che in Archicad il processo di caricamento è ottimizzato per la velocità una volta caricato l'intero progetto il caricamento successivo contiene solo le modifiche ad esempio se si modifica un layout verrà caricato solo il layout modificato inoltre quando gli utenti aggiornano il loro modello sui loro dispositivi solo la parte modificata verrà scaricata dal sito le possibilità di trasferimento di file che abbiamo discorso finora funzionano solo se pensiamo in anticipo ma immaginiamo una situazione in cui vediamo il modello in locco con il committente il quale ci chiede se è possibile avere anche lui questo modello sul suo dispositivo con l'aiuto della funzione airdrop integrata nel nostro sistema operativo possiamo trasferire il ripple modello in loco con pochi semplici passaggi ovviamente c'è una funzione simile anche per i smartphone android il collegamento al facility management immaginiamo un ragazzo manutentore di un edificio abbiamo davanti a noi un lavoro per riparare e sostituire alcuni filtri di fancoils prima dovevamo andare uno per uno toccando i fancoils e vedere quale e dove si trovavano nell'edificio adesso con la nuova funzionalità abbiamo introdotto i collegamenti multipli su bmx in questo modo con l'aiuto di bmx possiamo pianificare meglio le nostre rotte ed essere più efficaci nelle nostre attività quotidiane la collaborazione tra team nel bmcloud bmx pro non è solamente un grande strumento di presentazione ma si avvantaggia anche dell'infrastruttura bmcloud di graphisoft messaggistica per i team revisioni e foto allegate il tutto per colmare la distanza tra lo studio di progettazione e i professionisti in cantiere per poter ottenere un flusso di lavoro bm continuo in tempo reale quando riceviamo messaggi di lavoro di squadra da bmcloud oppure ogni volta che un modello scaricato dal sito è stato aggiornato l'applicazione bmx utilizza notifiche push per avvisare gli utenti adesso possiamo condividere i nostri progetti sui social network con bmx utilizzando bmx su ios o android è possibile condividere il progetto su facebook linkedin o anche mandarlo per messaggio possiamo condividere sia una vista 2d che 3d o l'intero ipermodello in un post su un social media o una foto panoramica a 360 gradi su facebook con questo abbiamo concluso il nostro percorso nel nostro flusso di lavoro open bmx a 360 gradi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti per aver partecipato. Adesso continueremo con la nostra sezione di domande e risposte.